Chi mi guarda allo specchio Chi si imbuca appena preso la patente Cosa mi aspetto da questo disco che piace a qualcuno o che non piace Non sono neanche tanto interessato a questa cosa Credo di averlo fatto con sincerità e questo mi basta Come stanno insieme il cervello e il cuore, dici tu Non lo so com'è che fanno stare insieme, però stanno insieme Sono anche due cose che vanno di pari passo A volte sono più cervellotico, a volte molto meno, a volte più istintivo, a volte no Sono molto complicato, credo di essere molto complicato E comunque di fare molta fatica a fare tante cose E tesoro mio quanto sei complicato è appunto una ipotetica frase che mi può essere rivolta E' un'altra cosa che mi piace Aspetto che il mio cuore faccia boom, chi semina peste raccoglie il dolore, sotto le lenzuola anche tu, io divento un fiume e tu profumi come un fiore. Va-Fara-Fara-Fara Va-Fara-Fara Cadi ciù dal letto, barabum Mi tieni più forte e poi non ti muovi Chiudi gli occhi e non ti vedo più Poi leggo i miei, i capelli e i tuoi con più di mille nodi Portami a vedere il cielo questa notte anche se è nuvolo Ho tanto caldo anche se è inverno Ho tanto caldo anche se è inverno Mi sento che non peso quasi più Mi volto nel letto, silenzio che dorme Ma come stai mi chiedo, dandomi del tu Come a primavera sugli alberi le foglie Portami a vedere il cielo questa notte anche se è nuvolo Ho tanto caldo anche se è inverno Ho tanto caldo anche se è inverno Ma che bel sogno Fino a mattina non ho chiuso occhio Portami a vedere il cielo questa notte anche se è nuvolo Ho tanto caldo anche se è inverno Ho tanto caldo anche se è inverno Ho tanto caldo anche se è inverno Non ce l'ho mai fatta e sono anche molto invidioso di chi riesce a scrivere delle storie magari leggendo sul giornale qualcosa, mi ricordo non so se c'è vero però la storia della donna cannone di De Gregori che diceva lui che aveva letto un trafiletto su un giornale di questa donna cannone del circo che era scappata per amore e lui ci ha scritto un capolavoro assoluto. Io ho grandissima invidia per chi riesce a farlo, fino adesso non ci sono mai riuscito, riesco solamente a scrivere di cose che mi vengono da dentro e riesco a buttarle fuori. Non c'è mai una frase o una canzone a cui sono affezionato, le mie canzoni mi piacciono tutte quante, sono affezionato a tutte per diversi motivi però non sono mai riuscito a dire a questa canzone che sono più affezionato. C'è una canzone del disco nuovo che mi piace molto, non è emotivamente importante per me però sono molto contento del risultato che è Cuore di Pietra. Il cuore di pietra preziosa fa che non ti rubino la voce, fa che non si parli mai di amanti, già da tempo non ci penso più. Per la tua gonna turchese, per i fogli e le matite, io so da lì te non ti muovi, anche se io ho palesemente voglia di te. La voglia di ascoltare la musica ce l'ho sempre, perché comunque sono sempre stato un ascoltatore. Ovviamente adesso faccio un po' più fatica a farmi venire voglia di scoprire qualcosa di nuovo, cioè mi deve proprio capitare un po' sotto il naso, diciamo così. Non ho più quella attenzione di andare un po' più a fondo, no? Per prima era molto diverso perché magari ti compravi il disco, spendevi i tuoi soldi, andavi a casa, te lo ascoltavi una volta, se non ti piaceva lo ascoltavi due volte, se non ti piaceva lo ascoltavi tre volte, prendessi il cacchio, ho speso 16.000 lire e adesso deve piacermi questo cacchio di disco. Mi capitano comunque sotto il naso, perché comunque girando per blog, piuttosto che rock it, piuttosto che cose così, insomma mi capitano ovviamente sotto il naso dei nomi che magari mi incuriosiscono, mi ascolto qualche cosa. Sempre però in quel modo nuovo di ascoltare la musica, c'è il disco in streaming, ascolto un pezzo, ascolto l'altro, ascolto il terzo e poi se mi acchiappa di brutto, come dicono i giovani negli anni 70, me lo ascolto tutto. Se non mi piacciono le prime robe ed è una cosa di cui mi dispiaccio molto. Mi piacciono i cantautori, quelli del nostro tempo, diciamo, quelli usciti insieme a me. Mi piace molto Bruno Orri, credo che sia molto bravo e che abbia una scrittura molto forte, molto personale. Mi piacciono le luci della centrale elettrica, mi sono sempre piaciute i film, una delle ultime cose che mi ha sconvolto tanto è stato appunto le luci della centrale elettrica, di quelle cose proprio che boh, che dici che roba è. Lo stesso effetto che mi fece Bugo, ad esempio, con un sentimento westernato, che lo ascoltai e dici, madonna, questa roba da dove arrivano? Se i nomi nuovi possono essere messi a confronto con i nomi del passato, loro vivono in un'epoca completamente diversa da quella in cui viviamo noi, che noi riusciamo difficilmente anche ad immaginare. Penso agli anni 70, agli anni di Piombo, piuttosto che agli anni 60, il boom economico, un Sanremo del 68, piuttosto che cose così. Un'altra cosa molto importante è che in quegli anni là si sono fatte delle cose che sono, a mio parere, eterne, nel senso che non hanno tempo, anche se ascoltandolo ovviamente senti che è una cosa degli anni 60, ma è una cosa che non ha tempo, cioè che l'ascoltata oggi ha tutta la stessa potenza che aveva allora. Oggi noi possiamo aspirare a fare una cosa così, certo che possiamo aspirare a fare una cosa così, però non a sostituire quelle cose là. Non possiamo oggi dire un mio pezzo sostituisce il pezzo di Celentano, perché quella roba là non finirà mai. Se le cose che facciamo oggi non finiranno mai, questo ne parlerà la storia e forse anche io e te non riusciremo mai a capirlo, perché almeno io morirò prima. Secondo me neanche loro, neanche Endrigo, quando ha fatto Canzone per te, si rendeva conto di cosa sarebbe diventata, che sarebbe rimasta nella storia della musica italiana. Credo, poi non lo so. Punto, punto e virgola, pausa di riflessione, puntini di sospensione, punto esclamativo, trattino linetta, virgola virgoletta. Come mai non mi scrivi più, come mai è tutto all'inverso. Non mi scrivi più, come mai è tutto all'inverso. Il futuro è semplice, presente è indicativo, tutto è relativo Quanto passato sotto i ponti è passato, è finito lì, è finito Come mai, non mi scrivi più, come mai, è tutto all'inverso La 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 la